Ma perché non posso dormire a casa? Perché vado a una lezione di tango e torno tardi. Almeno mi raccordi cosa hai fatto oggi? Luca! Sono andato dall'analista. Ah, ok. Ti sei divertita. Com'è analista? Quale analista? L'amico di zio, quello qua di fronte. Articolo 33. Allorché si tratti di minore, il consenso di interventi terapeutici deve essere espresso dal rappresentante legale, che sarei io! Guarda che io non ho chiaro. È inutile che cambi discorso, io ti faccio radiare dall'albo. Hai capito? Senti, io non ho visitato nessuno, è il tuo figlio che mi ha invaso lo studio. Comunque, se proprio lo vuoi sapere, tuo figlio ha bisogno di una mano e inizia anche a avere un'idea del perché. Invece tu non hai idea dei guai in cui ti troverai se non la smetti di impicciarti degli affari di mio figlio. Ma dall'altra parte qualcuno deve preoccuparsene, visto che tu non lo fai. Ti avverto che sto per chiamare la polizia. Sì, non è che prima chiameresti i pompieri perché mi sono chiuso fuori. Ha! Sì, non è che prima. Sì, non è che prima.